Passaggio di testimoni in confcommercio per il mandamento di Tieni in vista del nuovo anno. Vittorio Santa Caterina, presidente uscente, lascia il posto ad Andrea Retis, il vice designato per il mandato in scadenza, che per la prima volta sarà quindi in prima persona la guida dei commercianti tienesi soci dell'associazione di categoria. Storico esercenze del centro storico della città e grande appassionato di calcio e dirigente sportivo, con 54 anni Retis è titolare del negozio Ottica Andrea, che ha altre sedi a Due Ville e a Villa Verda, stato eletto all'unanimità, trovando quindi piena fiducia da parte dei vicini di vetrina del cuore in piena. Insieme alla carica di presidente che segna un cambio di direzione sono stati conferiti altri ruoli dei componenti della giunta mandamentale, pronti ad affincare Retis per il mandato che inizia nel 2023. Vicepresidente vicario sarà Fabio Zardo. Altro vicepresidente è Roberto Guerra, oltre ai consiglieri Daniele Berti, Enrico Faccina, Nicola Sandrina e Basilio Tommasini. Al nuovo trimoniere dei commercianti di Tiene e Paesi Limitrofi stanno arrivando in queste ore in accoppiate gli auguri di buone feste e quelli per il nuovo incarico. Andrea Retis lavorerà a stretto contatto con Claudio Ballardini, il direttore operativo entrato nel ruolo di recente della scorsa estate. Al prossimo episodio